e in vano gli uomini ammucchiati a centinaia di migliaia in un piccolo spazio si sforzavano di isteririre la terra su cui vivevano e in vano la ricoprivano di pietre affinché nulla vi crescesse in vano strappavano anche il più piccolo filo d'erba e affumicavano l'aria col carbon fossile e la nafta in vano tagliavano alberi e scacciavano animali e uccelli la primavera era sempre primavera anche tra le mura della città il sole scaldava l'erba dove non la raschiavano cresceva ad un bel verde vivido e cresceva non solo nelle piccole aiuole dei viali ma anche fra le lastre di pietra i pioppi le betulle i pruni stendevano le loro foglie vischiose e profumate i tigli si gonfiavano di gemme pronte a schiudersi come sempre in primavera le gracchie i passeri e i colombi preparavano lietamente i loro nidi e le mosche riscaldate dal sole ronzavano sulle pareti le piante e gli uccelli gli insetti e i bambini erano lieti soltanto gli uomini i grandi gli adulti continuavano a ingannare e a tormentare se stessi e gli altri gli uomini che non apprezzavano né quel mattino di primavera né quel divino splendore dell'universo creato per il bene dei viventi e per predisporli tutti alla pace alla misericordia e all'amore gli uomini che consideravano sacro e importante soltanto ciò che essi stessi avevano inventato per poter dominare gli uni sugli altri e così nell'ufficio del carcere provinciale il fatto ritenuto sacro e importante non era che a tutti animali e uomini fosse concessa la divina gioia della primavera consisteva in questo invece la vigilia era giunta in quell'ufficio una carta bollata e numerata con l'ordine di condurre in tribunale la mattina del giorno successivo 28 aprile alle ore 9 tre detenuti due donne e un uomo che si trovavano in attesa di giudizio una la principale imputata doveva esservi condotta separatamente appunto in osservanza di quell'avviso il 28 aprile mattina alle 8 un vecchio carceriere entrò nel corridoio oscuro e fetido del reparto femminile subito dopo comparve anche la carceriera della sezione una donna dal viso affaticato e dai capelli grigi che indossava una camicetta con le maniche ornate di galloni e una cintura filettata in azzurro cercate la maslova? domandò e si avvicinò con lui a una delle porte che davano sul corridoio il carceriere con un rumore di ferracci introdusse una chiave nella serratura della porta che all'aprirsi lasciò uscire un lezzo ancor più fetido di quello del corridoio poi gridò maslova in tribunale e rinchiusa la porta rimase ad aspettare persino nel cortile della prigione si respirava l'aria fresca e vivificante dei campi portata dal vento in città ma in quel corridoio l'aria era opprimente mefitica impregnata dell'odore di escrementi di catrame e di marcio nessuno poteva respirarla senza essere subito preso da un senso di scoraggiamento e di tristezza anche la sorvegliante per quanto ci fosse abituata ne rimase colpita era venuta dal cortile e appena entrata nel corridoio si era sentita stanca e sonnolenta nella camerata suddiva un gran tramestio voci di donne e passi di piedi scalzi su fai in fretta maslova spizzati gridò il vecchio carceriere attraverso la porta poco dopo una giovane donna non alta e dal petto rigoglioso uscì dalla camerata con passo deciso sotto la casacca grigia indossava una camicetta e una gonna bianche aveva calze di tela e scarpe grossolane da detenuti un fazzoletto bianco annodato intorno al capo lasciava sfuggire evidentemente a bella posta ciocche ondulate di capelli neri il volto della donna aveva quel pallore caratteristico di chi è vissuto a lungo in reclusione che ricorda il germoglio delle piante in cantina avevano lo stesso colore anche le mani piccole e larghe e il collo bianco e pieno che usciva dall'ampio colletto della casacca spicciavano in quel volto soprattutto in contrasto col pallore opaco del viso gli occhi nelissimi splendenti, un po' gonfi ma molto vivaci uno dei quali leggermente strabico la donna si teneva eretta sporgendo il petto pieno uscita nel corridoio guardò dritto il carceriere negli occhi piegando un po' col capo e si fermò pronta a obbedire ad ogni richiesta il carceriere stava per rinchiudere l'uscio quando sulla soglia si affacciò il volto pallido cupo e rugoso di una vecchia dai capelli bianchi a testa scoperta questa cominciò a dire qualcosa alla maslova ma il carceriere le sbatté la porta in faccia e chiuse con rumore nella camera scoppiò una risata di donna anche la maslova sorrise e si voltò verso un finestrino a sbarre praticato nella porta la vecchia dall'interno aveva appiccicato il viso all'apertura e diceva con voce rauca soprattutto non parlar troppo tieni duro su un punto e basta uno o due che importa peggio di così non può andare rispose la maslova scuotendo la testa ma se uno non è due osservò il vecchio carceriere con autoritaria fiducia nella propria arguzia seguimi avanti l'occhio della vedova scomparve dal finestrino e la maslova avanzò nel corridoio seguendo il vecchio guardiano a passi piccoli e rapidi